Gli Stati Uniti entrano nel conflitto siriano. Nella notte da due portaerei che incrociano nel Mediterraneo sono stati lanciati 59 missili Tomahawk contro la base di Al-Shayyat a Homs. In base alle informazioni del Pentagono, da lì martedì scorso sarebbero partiti gli aerei dell'aeronautica di Damasco con le armi chimiche che hanno causato 80 morti a Khan Sheikhoun. I missili statunitensi avrebbero centrato ampie zone della base aerea siriana, distruggendo velivoli, piste e aree di rifornimento. Secondo fonti militari siriane l'attacco avrebbe causato vittime.